Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo ancora dalla FIPI-Li, code stabili a 3 km tra Scandiccio e Ginestra Fiorentina in direzione Mare tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna verso Firenze. Mina 1 per traffico intenso, code a tratti invece tra Firenze Nord e Barberino di Mugello verso Bologna. Treni a seguito dell'attivazione del sistema di controllo della linea, la circolazione è sospesa fino alle 22 di stasera da Marradi a Faenza, circolazione è sospesa inoltre anche per la giornata di domani a seguito dell'allerta meteo arancione, attivati in entrambi i casi bus sostitutivi, tutti i dettagli sui nostri canali social. Città di Firenze si ricorda che a partire da domani, martedì 25 giugno, in vista della partenza del Tour de France, sono previste modifiche alla viabilità e deviazioni per quanto riguarda il servizio bus. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Un viaggio!